Buongiorno gente, come state? Bentornati! Allora, qualche giorno fa sono stato al mercato, ho preso delle zucchine e siccome erano vicine a una zucca, mi è venuto un pensiero ma se con la zucca noi riusciamo a fare dei piatti sia dolci che salati? Non è possibile fare dei piatti dolci anche con le zucchine? In fondo hanno più o meno le stesse caratteristiche, sono abbastanza neutri come sapore la zucchina magari è un pochino più ricca d'acqua rispetto alla zucca, ma su quello ci si può lavorare Allora, io ho fatto questo plum cake vediamo insieme la ricetta e poi alla fine del video vi do degli utilissimi consigli Per prima cosa tritiamo finemente le zucchine Lasciate ora riposare le zucchine tritate in un colino per circa 15 minuti Dopo averle fatte riposare, metteteli in un canovaccio pulito e strizzatele molto bene in modo tale da fargli perdere l'acqua di vegetazione Nel frattempo mettiamo in una ciotola la farina doppio zero, la farina di mandorle e poi il lievito setacciato Mescolate poi le polveri insieme con una frusta In un'altra ciotola rompiamo le tre uova Aggiungiamo lo zucchero di canna E sbattiamo le uova con lo zucchero con una frusta elettrica fino al raddoppio del suo volume Grattugiamo ora la scorza di un limone non trattata Riprendiamo a mescolare il composto E mentre lo facciamo aggiungiamo metà della farina Dopo aver giunto la metà della farina aggiungiamo l'olio di semi mentre mescoliamo a velocità medio-bassa Dopo aver giunto il composto Ha raggiunto una consistenza abbastanza liscia ed omogenea Aggiungiamo anche le nostre zucchine tritate Con una paletta di un cucchiaio amalgamiamo bene le zucchine al composto Questa operazione dividetela in due volte in modo tale che le zucchine si incorpiano veramente bene Prendete uno stampo da pumpkin cake di 25 cm di lunghezza per 10-11 cm di larghezza Foderate lo stampo con della carta da forno tagliata in tre parti La parte più lunga che servirà appunto per coprire la lunghezza E poi due strisce più corte per coprire i bordi laterali Utilizzate delle clip o delle mollette per tenere ferma la carta mentre versate dentro il composto Una volta versato l'intero composto potete togliere le clip e siete pronti per infornare a 180 gradi per circa 50 minuti Dopo aver fatto la prova a stecchino per vedere se il plum cake all'interno è perfettamente cotto Ponete tutto lo stampo su una gradella e fate riposare per almeno 20 minuti e mezz'ora Dopo che si è intiepidito potete toglierlo dallo stampo e togliere anche la carta da forno che è stata foderata E lasciatelo raffreddare completamente sempre su una gradella Ora finalmente vi potete gustare il vostro plum cake dolce alle zucchine insieme a un ottimo tè o una buona tazza di latte Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il primo consiglio che vi voglio dare è questo Cercate di prendere le zucchine piuttosto piccole Questo vi permetterà di avere meno acqua di vegetazione e quindi molto più asciutte Come avete visto io lo lasciate in un colino per una quindicina o ventina di minuti e dopodiché lo strizzate all'interno di un canovaccio Se le prendete invece un pochino più grandi dovranno riposare un pochino di più, anche un'ora Comunque ricordatevi sempre di strizzarle in modo tale da renderle asciutte Altrimenti l'impasto che avete visto è molto morbido diventerà troppo acquoso e quindi non raggiungerà l'effetto voluto L'impasto come avete visto è molto liquido e molto lento Quindi quando mettete la carta da forno la dovete fermare con delle clip come ho fatto io oppure con delle mollette Perché se non lo fate vi capiterà questo Capito? Quindi facciamo attenzione Dopodiché lo passate in forno per 50 minuti circa Comunque fate sempre la prova dello stecchino per vedere se è cotto E il risultato l'avete visto anche voi È venuto veramente molto buono Gradevolmente dolce Rimane molto morbido come avete visto Ed è ottimo per la prima colazione Veramente stupendo O per una merenda chiaramente Io spero che la ricetta vi sia piaciuta Visto che è una ricetta un po' più diversa dal solito Con un ingrediente un po' particolare Se ancora non lo avete fatto iscriviti al canale e cliccate la campanella lì sotto Per non perdere i miei prossimi video E noi ci vediamo alla prossima ricetta Buona giornata a tutti